Parla di tradimento da parte degli alleati il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini che, dopo il consiglio infuocato di ieri, ha rassegnato le sue dimissioni da primo cittadino. Insostenibili le tensioni all'interno della maggioranza proprio quando si doveva discutere della riclassificazione dell'ospedale di Sulmona a nosocomio di primo livello. Nella lunga lettera in cui spiega le ragioni delle sue dimissioni, il sindaco punta il dito contro coloro che con lei hanno sposato il progetto civico ma che, accusa, non hanno avuto la maturità e il coraggio di affrontare in modo deciso i problemi, rinunciando anche alle poltrone. Mi assumo le mie responsabilità anche per loro conto, ha scritto il primo cittadino, con grande dolore e rammarico per tutto quanto avrei voluto continuare a fare per la mia città. Un atto di coraggio, l'ha definito lo stesso sindaco, che in passato a dicembre 2017 non aveva esitato a presentare le dimissioni, ad esempio, per la questione della centrale di compressione del gas in Valle Peligna, salvo poi ritirarle entro i 20 giorni che la legge concede ai sindaci per tornare sui propri passi. 20 giorni dunque, questo è il periodo utile che scatterà da lunedì per rincollare i cocci della coalizione al governo della città ed evitare che a Sulmona si torni di nuovo anticipatamente alle urne dopo appena due anni di consigliatura. A far esplodere definitivamente la crisi di governo sono state le parole di Andrea Ramunno, consigliere di Adesso Sulmona, che, mentre ci si accingeva a votare all'unanimità la delibera per l'ospedale di primo livello, è intervenuto chiedendo le dimissioni della Casini perché il primo cittadino avrebbe disatteso le richieste di una verifica di maggioranza. Solidarietà ad Anna Maria Casini è stata espressa dall'ex assessore regionale Andrea Gerosolimo, il deus ex machina del progetto civico che ha vinto le passate elezioni comunali. Sono e sarò al fianco di Anna Maria Casini, ha dichiarato Gerosolimo. Le sue dimissioni, continua l'ex assessore, rappresentano un gesto di dignità e coraggio per una donna che ha combattuto incessantemente per due anni. Le dimissioni, come detto in precedenza, saranno ratificate lunedì. La sensazione però è che questa volta la spaccatura sia troppo profonda per essere ricucita.